Partiamo dal riete. Giornata molto più movimentata delle precedenti, quella che vi aspetta. Sul lavoro sarete sempre in movimento per correre a riunioni e appuntamenti o per stare dietro a due o tre cose contemporaneamente. Toro, giornata senza troppe sorprese, anche gli imprevisti rientreranno presto sotto il vostro ferrio zoccolo. Sul lavoro sarete molto cauti e vorrete delle garanzie anche per alzarvi dalla scrivania. Gemelli, il vostro umore sarà sereno e affronterete gli impegni quotidiani quasi con entusiasmo. Sul lavoro potrete contare su qualche buona occasione e nel privato vi troverete bene con tutti, amici, parenti, compagni e amanti. Cancro, oggi sarete un po' stanchi. Gli impegni della settimana cominceranno a pesare sulle vostre spalle, un po' perché non ci eravate più abituati, un po' perché vi siete dati da fare. Sul lavoro quindi limitatevi all'ordinaria amministrazione. Leone, vi sentirete molto socievoli e disponibili per il resto dell'universo, sul lavoro ascolterete con pazienza le lamentere dei colleghi ed alcuni potreste persino dare una mano. Vergine, non è giornata, quindi cercate di non puntare troppo in alto perché farete fatica ad arrivarci. Sul lavoro siate pazienti e non mettete troppi puntini sulle i, potrebbe non essere una buona politica. Bilancia, ottima giornata quella che vi aspetta dove anche se non avete nulla di particolare in programma, sarete contenti. Sul lavoro per esempio non ci saranno ostacoli degni di nota e i rapporti con colleghi e collaboratori saranno piuttosto tranquilli. Scorpione, sul lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti dell'ultimo minuto da affrontare che metteranno alla prova i vostri nervi. Nel privato saranno i soldi a tenervi sul filo del rasoio. Sagittario, sarete piuttosto nervosi e non sarà facile avere a che fare con voi. Tenderete a non rispondere o a farlo un po' troppo bruscamente. Perderete la pazienza con facilità e sperirete proprio sul più bello. Capricorno, oggi potrete concentrarvi sulla vostra routine quotidiana senza venire distratti dai soliti imprevisti. Sul lavoro invece sarete molto efficienti e tenderete a concentrarvi completamente sui vostri compiti. Acquario, potrete approfittare di una bella giornata, il vostro umore tornerà sereno e voi molto meno polemici e scontrosi. Sul lavoro sarete anche produttivi e avrete delle idee interessanti. Pesci, non sarà una grande giornata. Il vostro umore sarà cupo e tenderete a prendere male ogni imprevisto, ogni cosa che uscirà dalla bocca del partner o di un vostro collega di lavoro. La tentazione alla lamentela incontrollata sarà molto forte.